Ciao ragazzi, forse qualcuno di voi l'avrà già notato che il nome di questo canale è cambiato da CazzoTV a CazzoNoiseHome che poi è il nome anche dello studio da dove sto facendo questo video. Questo perché? Perché ho voluto cambiare la natura del canale e farla diventare non soltanto una piattaforma dove faccio uscire i video dei cazzo e tutto ciò che concerne questo gruppo ma da adesso voglio divulgare anche il materiale degli artisti che sto producendo e quindi a brevissimo, tra pochissimi giorni, uscirà un video di Claire Demilune che è una ragazza che sto producendo da un paio d'anni ormai e quindi insomma prossimamente su questo canale non vedrete soltanto i video nostri ma anche quelli degli artisti che sto producendo quindi guardateli, commentateli e poi fatemi sapere che ne pensate tramite i commenti oppure anche i messaggi privati, insomma come volete però da adesso succedono cose, ok? Ciao!